C'è delusione? Spero di guardare avanti, quindi al Torino, di guardare anche dentro noi stessi perché alla fine non si diventa scarsi dopo una sconfitta e non si è forti dopo una vittoria, quindi bisogna sempre cercare l'equilibrio giusto. Spero di trasmettergli questo, di trasmettergli la fame e la voglia di dimostrare a tutto il mondo quello che siamo in grado di fare e quindi cercherò di dargli la mano sotto questo aspetto. Si riparte subito a mille con sempre più motivazioni e sempre più voglia per cercare di raggiungere il prima possibile l'obiettivo. Le partite sono tanti, i punti sono tanti e quindi cerchiamo con entusiasmo di affrontare tutte le partite al 100%.